amici di youtube ben trovati da marco liguori in questo video parliamo di una notizia che sta allarmando tutti i fan di william e kate prima di farlo vi ricordo che a 400 like pubblicherò immediatamente un nuovo video il 2024 e senza dubbio l'anno orribilis per la famiglia reale in primis per il cancro che kate middleton sta combattendo e nel video di ieri abbiamo parlato di presunte voci secondo cui il principe william avrebbe l'amante c'è chi dice soprattutto tra i tabloidi inglesi che non è un'eresia considerare il divorzio tra i due sovrani e come detto nel video di ieri a rincarare la dose e a consigliare il divorzio al principe william è stata camilla parker che ha 76 anni anche lei con problemi di salute ma pare abbia consigliato quello che tutti i fan stanno temendo ovvero il divorzio da kate emerso anche il nome di una nobile inglese si chiama rose embury secondo i tabloidi inglese sarebbe l'amante del principe william ovviamente ci auguriamo che tutte queste non siano altro che delle voci spesso pubblicate per vendere più giornali piuttosto ci auguriamo che il principe william stia insieme a kate in salute in malattia e nei momenti più difficili che si vede il vero amore forza william confidiamo sul fatto che farai la scelta giusta amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi sul secondo di marco liguori il canale dei video di cronaca seguitemi anche sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti ciao 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 ciao